Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. E se riprendessimo uno tra i saggi più famosi sulla condizione giovanile pubblicato intorno al 2007 per capire cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa in quel pianeta per molti versi ancora molto misterioso che è l'adolescenza? Umberto Galimberti, l'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani. Un libro sui giovani, perché i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni, rendendole esangui. Principali imputati di questo disastro, la famiglia, la società, la scuola e il mondo degli adulti, che in qualche modo sostiene Galimberti, lascia deliberatamente ai margini i giovani, parcheggiati in spazi vuoti e privi di prospettive, spazi vuoti in cui vanno ineluttabilmente ad annidarsi il disagio psichico e tutta la gamma delle devianze. Il titolo che Galimberti attribuisce al capitolo 3 è molto significativo, il disinteresse della scuola. Autostima e autoaccettazione sono tenute dalla scuola in minimo conto. L'autostima dello studente è scambiata spesso per presunzione e l'autoaccettazione come un esplicito riconoscimento da parte dello studente di non valere un granché. Se poi è lo stesso studente a essere convinto di valere poco, il professore si sente assolutamente assolto nel suo ribadire con voti e giudizi negativi quel nulla che lo studente avverte già per suo conto dentro di sé. E così per non fare ingiustizia e per non usare due pesi e due misure per simili considerazioni che fioriscono sulle labbra apparentemente innocue di tanti professori, si allarga e si approfondisce quella dimensione del vuoto che talvolta porta a gesti irreversibili. L'identità, continua Galimberti, non si costruisce per il semplice fatto che ci siamo e che ogni volta che parliamo diciamo io, l'identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell'altro. Se il riconoscimento manca, come manca sempre a chi va male a scuola, l'identità, che è un bisogno assoluto per ciascuno di noi, si costruisce altrove, in tutti quei luoghi, scuola esclusa, dove è possibile ottenere riconoscimenti. Se poi fuori dalla scuola della famiglia resta solo la strada, sarà la strada a fornire quei riconoscimenti. Bene, allora non mi resta che augurarvi buona lettura, grazie come sempre e mi raccomando veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti.